Nuovi sviluppi sulla rapina compiuta a Lanciano lo scorso 23 settembre, è stato arrestato un uomo ritenuto il sesto componente della banda che ha saltato la villa dei coniugi martelli. Si tratta di Marius Adrian Martin, 34enne romeno, con precedenti per associazione a delinquere e reati contro la persona e patrimonio che nel frattempo si era rifugiato in Romania. L'uomo è stato preso nella città di Craiova dalla polizia romena e dagli agenti italiani. Il GIP di Lanciano ha firmato un mandato di arresto europeo nei confronti del soggetto consentendone celermente l'individuazione e la I carabinieri e il capo della squadra mobile di Chieti raggiungeranno la località romena dove si trova un investigatore del servizio centrale operativo della polizia di stato per l'attivazione delle procedure di estradizione. Si è avvalso intanto della facoltà di non rispondere il 26enne romeno Alexandru Bogdan Colteanu, bloccato a Casal di Principe nella provincia di Caserta e fermato con l'accusa di aver tentato di ricettare un orologio rubato durante la rapina nella villa dei coniugi Martelli a Lanciano. L'uomo è accusato di rapina pluriaggravata, lesioni gravissime, sequestro di persona e porto abusivo di arma. Il romeno, ritenuto il capo della banda, è rinchiuso nel carcere di Caserta e comparso davanti al GIP di Santa Maria Capovetere per l'interrogatorio di garanzia. In carcere a Lanciano restano i suoi quattro complici che lo hanno accusato di essere l'organizzatore del cruento colpo in cui Anniva Bazzan, moglie di Carlo Martelli, ha tagliato l'orecchio destro. Nella giornata di ieri il personale della squadra mobile sezione antidroga ha arrestato un cittadino di nazionalità marocchina residente a Rieti per sottoporlo alla misura cautelare degli arresti domiciliari per detenzione spaccio di sostanza stupefacente che avveniva all'Aquila e ad Avezzano. L'ordinanza di applicazione della misura cautelare è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari Maria Grazia Mastelli. Le indagini avviate circa due anni fa con il fermo di un acquirente locale che aveva appena acquistato cocaina da uno degli arrestati sono state seguite dopo attività tecniche e intercettazioni telefoniche ambientali e dopo specifici servizi di polizia giudiziaria. L'esito dell'attività investigativa pienamente accolta dalle procure della Repubblica dell'Aquila di Avezzano ha consentito di smantellare un sodalizio criminale dedito allo spaccio di cocaina Ascish che operava principalmente nel centro storico Aquilano in località Preturo e ad Avezzano nei pressi della stazione ferroviaria. L'interattività ha consentito di sequestrare un chilo di Ascish e 50 grammi di cocaina. Questa mattina l'amministrazione comunale di Città Sant'Angelo ha ospitato una delegazione di imprenditori e rappresentanti di alcune associazioni di categoria provenienti dall'Ucraina guidata dal presidente della Camera di Commercio ed Industria Nazionale di Kiev, dal direttore generale rappresentante per l'Italia del DESC Camera di Commercio di Kiev e da Paolo Di Lullo presidente onorario dell'associazione Camera Italia per i Balcani e Paesi della Federazione Euroasiatica. La visita ha come obiettivo ha spiegato il sindaco di Città Sant'Angelo Gabriele Florindi, quello di far conoscere e valorizzare non solo il meraviglioso territorio di Città Sant'Angelo, ma anche e soprattutto quello di divulgarne le eccellenze promuovendo le occasioni di business e la cooperazione tra imprese del nostro territorio e quelle dell'Ucraina. Sport Calcio, campionato di promozione, attenzioni puntate sull'Ovidiana Sulmona che la scorsa domenica ha fatto registrare la prima vittoria con la squadra che in campo ha mostrato un atteggiamento diverso. Ecco l'Ovidiana Sulmona targata Sergio Lorè. Ne parleremo tra poco nella rubrica Il Punto.